Grazie al percorso del liceo scientifico acquisiamo delle conoscenze e dei metodi che sono propri principalmente della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Noi studenti siamo guidati all'approfondimento e allo sviluppo di abilità e conoscenze che ci permettano di seguire lo sviluppo della ricerca tecnica e scientifica. Per fare questo ci viene assicurata la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative anche attraverso la pratica di laboratorio. Ho scelto il liceo scientifico per avere un'approfondita preparazione tecnico-matematica che fosse comunque accompagnata da una preparazione umanistica. Questo appunto mi consentirà di inserirmi tutti i corsi universitari e facilmente inserirmi nel mondo del lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!